Adesso mi sono ancora. E-mage. Vabbè, per tanto ho scritto una frase. Lezione 103, sempre onomatopeo, parole mimetiche. Tanoshiki, mochi, sensazioni, felici, happiness. Sai che, quello che è partito di là, non è partito niente, perfetto. Parlando da solo. No, ah ok, sta andando. Quindi. Sono orribile e via. Andiamo avanti. Comunque dopo devo litigare con Fasto, però vabbè lasciamo perdere se no inizio a parlare di quello non finisco più. Allora, Iki Iki Suru. Iki Iki Suru. Iki 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 Suru. Qua è, l'avevamo fatto ieri, era vita. Quindi Iki 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 Suru è essere pieno di vita. Essere pieno di vita. Quindi, Sukina Iki Iki U. Sukina Iki U. Il baseball che ti piace tanto. e il tutto chi quando giochi al tuo al tuo baseball che ti piace tanto no care lui a reo a ontoni con toni è veramente i chi chi pieno di vita e chi chi ste il e che pazienza che c'ho vabbè donna ryugaku sei katsu ga materu ka ima kara waku waku suru quale tipo di vita da studente estero farò che mi aspetterà da adesso sono molto emozionato waku waku suru e quello che dice sempre goku waku waku suru waku waku suru essere emozionato essere emozionato o eccitato c'è il senso che goku dice che è emozionato non è eccitato però va beh dipende da come vi piace di più allora don don che è quale tipo non è don nostro quale tipo ryugaku e aspettate che mi chiama fastweb adesso volano le bestemmie e immagini Grazie a tutti. 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 Sono un po' stufato. faccio straordinario. ma sono tutti. stringere. qua. mi è venuto. grazie a tutti. il pullman non arriva per niente e mi stanno girando i marones con acte, ira 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 sta e mi sono arrabbiato muto suru, muto non l'ho mai sentito cioè non l'ho mai usato neanche muto suru infastidito o innervosito Shizurei nakoto iware te muto stesimatta Shizurei nai maleducato Shizurei nakoto uo iware te mi hanno detto una cosa che è maleducata e mi sono fastidito e mi sono innervosito iware te muto muto stesimatta uo iware te muto stesimatta essere stufato essere stufato mai nici mai nici zanghio de ciotto un zari steimas ma solo ciotto tutti i giorni tutti i giorni faccio straordinario sono leggermente stufo leggermente li ho rincazzato come una zebra un zari zanghio e greggio buongiorno chi è? uo iware te muto buongiorno zanghio minna e sammerin zanghio de ciotto questo qua me lo scrivo perché ho sbagliato a tradurlo quindi se sbaglio a tradurlo significa che non l'ho ricordato bene straordinario vabbè che non la odio come parola bene a parte che sto litigando con fastweb tutto bene eeeh ciotto un zari steimas ciotto muka muka suru muka muka suru eeeh stringere stringere o strizzare più che stringere strizzare mi si strizza lo stomaco strizzare no su che se non si vede niente allora muka muka suru strizzare ok i ga che è lo stomaco i i ga muka muka ste mi si strizza lo stomaco e mi è venuta un po' di nausea un po' da vomitare dipende come vi piace di più muka 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 monogatari ciotto si senda a chi so vedi il cangi di vomitare non lo sapevo adesso lo so a chi so no a chi so nina rimasta mi è venuta un po' di nausea una rimasta ok andiamo avanti altre emozioni sono oka no kimochi sono 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 ta no mi sa ah no sono oka sono oka non metto il cangi non lo vuole ah perché se metto il cangi si legge sono ta sono oka no no c'è altre emozioni no muro altre emozioni allora doki doki suru mi batte il cuore doki doki suru quando ti innamori e ti batte il cuore doki doki suru mi batte il cuore mi batte mi batte non mi scrive mi batte il cuore mi batte il cuore ok ehm osei non maede spicci suru no hajime te dattani e doki doki shimashita ma dice nervoso però doki doki è anche essere innamorato boh otto suru essere rilassato succhiri sta essere ah finalmente non bi ri è proprio relax allora doki doki suru per me mi batte il cuore o essere nervoso però beh è sbagliato per me osei è davanti a tante persone no maede no maede davanti a tante persone su picci è parlare questo anch'io non sono capace spicci suru no ha hajime te è la prima volta che parlo davanti tante persone hajime te dattanode e doki doki shimashita doki doki shimashita e mi sono emozionato no come on come on come on si può trovare anche cosa è scritta allora allora osei no maede spicci suru no hajime te dattanode doki doki shimashita siccome era la prima volta che parlavo davanti a tante persone mi sono emozionato mi batteva forte il cuore come mi piace di più per me mi batte forte il cuore doki doki anche quando ti muoio allora poi otto suru è il respiro di sollievo otto suru Mako otto suru cosa significa? non è il respiro di sollievo perché on non biriere essere rilassato qua il libro dice una cosa mia moglie dice un'altra e io ne penso un'altra perfetto tutti d'accordo allora Cicino Cicino Shujutsu Shujutsu Buji Oate otto suru ho tirato un respiro di sollievo perché mio papà ha finito l'operazione senza problemi cioè Cicci è papà che significa mio papà No Shujutsu operazione Shujutsu come on come on Shujutsu Ga Buji Buji è senza problemi o a te otto sta mi ha tirato un respiro di sollievo cioè ci sta da dio allora Fushigina story ok poi mi devo fermare sono poi abbiamo mi sa che non ci sto no non ci sto Succhirisuru 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 ma che è tipo sei stanco dormi ti svegli che sei stai bene però mi viene in mente come si l'avevo detto prima essere rinfrescato essere rigenerato Mako come si dice in italiano come si dice in italiano Succhirisuru mi sono essere rinato non mi vengono le parole di italiano e so cosa significa in giapponese ma mi viene in italiano vabbè bella questa frase Assegataksan questo sono io che sudo come una capra Assegataksan kai te ho sudato tanto bene Kimochiwarukatta e avevo una sensazione di morda Kimochiwarukatta warukatta ga ma mi sono fatto la doccia e sono rinato quindi è giusto Shawa sta Shawa e doccia Naidee Shawa wo abi abi te succhiri pani flash shawa succhiri sta scriviamo queste fantastiche frasi altre emozioni sono oka no kimochi onna no ko onna no ko onna no ko kuchiyo mui teo hani dakinanda ga dakinanda nandamon onegai onegai innaidee haini iya yo iya yo iya yo iya yo honey flash kawaruwa yo kawaruwa yo doki doki suru doki doki suru doki doki suru do ozei e tante persone ozei 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 no ma e dee ozei no ma e dee suru no wa haji me teo è la prima volta che parlo davanti a tante persone mi sono molto emozionato e mi batteva forte il cuore haji me teo doki 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 sta allora otto suru respiro di sollievo fare anche la pubblicità otto suru essere sollevato chichi e papà no shu jutsu aah kuma no shi kara nihitsu ketah sih niro iro debiluman buji debiluman buji ta ta na 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 buji oate hmm 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 buji oggi 8 8 allora sono molto sollevato perché l'operazione mio papà è andata a buon fine è andata bene è andata senza problemi è finita senza problemi scusate allora poi è succhiri sukkiri 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 essere rinato rinato ase ga taksan ase sudore ase con la ase con la allora taksan taksan kai te ho sudato tanto takkai te kimochi warukatta avevo una sensazione di muerda kimochi avevo una brutta sensazione kimochi warukatta warukatta ga shawa shawa uo abite mi sono fatto una bella doccia e sono rinato paravattam questo non lo sapevo il kanji ma lo scrivo abite shawa birue fare la doccia il significato lo sapevo il kanji no? su kiri sta e mi sono e sono rinato su kiri sta mi sono rinfrescato si è rinato in italiano è rinato poi abbiamo nombiri e relax nombiri qui è quello che sto facendo io sono sempre incazzato nombiri suru nombiri suru e essere relax essere rilassato allora ishukangura yasumi ototte nombiri onsenidemo ikitaina vorrei anche andarmi a rilassarmi alle terme ishukang ishukangura non scrivi grazie per una settimana più o meno riposo yasumi sono in vacanza doveva essere ototte ho preso le ferie per una settimana nombiri vorrei andare alle terme a rilassarmi onsen e nidemo ikitaina vorrei andare perché non ci sta parlare vabbè vorrei andare anche alle onsen per rilassarmi cioè rilassandomi alle onsen taglia nombiri nidemo ikitaina questo poio 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 sacanano ko ah no devo scrivere perché poi devo girare pagina nombiri suru rilassi don't do it Grazie a tutti. Tutte, Isshu Kangurai, Yasumi o Tutte... Comunque ieri sera Twitch dava dei problemi. Eh ma in che senso dava dei problemi? Ma è alto, aspetta che forse è alta la voce. In che senso dava problemi? Ah sì, non uscivano di lato le... Come si chiama? I canali, le robe varie. Quello non ho notato anch'io. Cioè, tipo i canali dove ti eri iscritto non esistevano. Non si vedeva i canali in live. Esatto, esatto. Vabbè, tanto per quello che facciano, tanto giocano tutti agli stessi giochi. Non riesci a trovare un gioco decento e tutti giocano agli stessi giochi. Poi ti ho guardato delle live vecchie che aveva fatto uno su un gioco d'orrore. Quello lì, quello lì, che si chiama Song of Horror dovrebbe essere. Song qualcosa, che era interessante. Non ci giocherei mai, però era interessante. Mi piaceva come live. Nombiri, Onsen. O mostravano solo quelli consigliati? Sì, che lo sai anche tu quelli consigliati, quelli sono, no? Quelli con le tette di fuori sono quelli consigliati. No, a me neanche consigliati. No, a me neanche consigliati. Allora, poi abbiamo Monono Jotai, le condizioni delle cose. Cosa significa? Che frase è? Io aggiornavo la pagina o vedevo i canali consigliati o in live o nessuno dei due. Allora, aspetta che non ci vedo una fava. Sto diventando, oltre che stronzo sono anche cieco. Aspettate un secondo che non vedo. Ok, adesso ci vedo. Allora, abbiamo Monono Jotai. Monono Jotai. La condizione delle cose. Condizione... Condizione... Ah, pica pica essere... Pica pica essere brillare. Si dice anche quando uno è pelato che gli brilla la testa e dice pica pica. Pica pica. E anche Pikachu dice che c'è sempre pica pica. Perché si fa brillare. Pica pica... E anche si pica... Pica pica tarassi. Brilla. Brilla. Picca pica brilla. Luccica. Come si dice, boh? Brilla. Sono Gita... Catta? Sono Gita... Hai comprato quella chitarra? No, l'ho rubato. Sono... Quindi posso dirlo nel tuo caso. Ancora? Io ce li ho i capelli. Non sono neanche pelato. Ce li ho i capelli. Non so perché insisti a dire che sono pelato. Ce li ho i capelli. Non sono neanche in piazza. Per la mia te dovrei avere anche la piazza. Invece ce li ho tutti i capelli. Non si è vista la mia testa? Ah no, sì, funziona. Sono Gita... Cattano. Hai comprato quella chitarra? No, l'ho rubata. Sono Gita... Cattano. Non so perché mi vuoi pelato, ma... Poi ne parliamo quando tu avrai la mia età e che tu sarai pelato e io ho ancora i capelli e ti riderò in faccia. E ti dirò che la tua testa fa pica pica. E ti brilla la testa. Pica pica. Pica cium! Pica pica no shim... Te lo dirò ogni volta così lo diventi. No, te lo dirò... Me lo dirai ogni volta così lo diventerai tu e io riderò. E ti pareva che per una lettera non ci stavo? Ah, ecco, beh, facciamo così. No, e basta. Pica pica no shimping. Hai comprato quella chitarra? Sì, è nuova luccicante. Nuova brillante, nuova luccicante. Iidesho, ti piace? Ti gusta la ragusta? Pica pica. Sukiya, sukiya. Sukiya, sukiya. Sukiya, sukiya. Ah, goccia goccia e goccia goccia. E che cacchio è? E qui goccia goccia stè warini Iku iku ikara Kaizu ni iriguchi de aimasho. Goccia goccia è... Cioè è caos, no? Rumoroso? Eh, è incasinato? È incasinato? Mmh. Goccia goccia. Incasinato. o no incasinato e chi va goccia goccia stè kawarini cucara cos'è ciugo perché mi ha scritto ciugo così a caso ciugo è seconda mano sì ma non so perché me l'ha messo così una parola in mezzo seconda mano scriviamo seconda mano qua in mezzo così senza senza senso proprio ciugo che la parola che questo se vede che di questo simbolo qua significa che è usato e quindi lo pagate meno perché è usato suco usato invece qua shinpin è nuovo perché ha messo shinpin allora ci ha messo anche usato però che cazzo c'entra con brilla va beh goccia goccia incasinato sarebbe visto che davanti alla stazione è un casino e chi e chi è stazione e chi è una goccia 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 sul zoom come i tuoi oggetti che li vendi usati no io sono stronzo ho tutte le cose vecchie tutte ce le ho ho anche ancora le capture card che registravo in 720 1080 c'ho tutto io un brutto vizio che non sono capace di vendere le cose mie cioè ci ritengo mi chiamano il collezionista e quindi sono pieno di monnezza goccia goccia ste cavari e poi quando mi serve qualcosa la compro nuova e magari ce l'ho in cantina come l'altra volta che ho comprato il cavo che ne avevo mille e non trovo più cavi quando mi servono lì è vero che quando abbiamo messo a posto i cavi ho detto vedrai che poi mi servirà un cavo e lo comprerò quando ce l'ho e perché non lo trovo e poi infatti allora e chi va goccia goccia ste cavari ni cavari ni cavari ni cavari ni cui cara in cui ma con cavari ni cui intende che è difficile fare il cambio il cambio la stazione è incasinata ma visto che non riusciamo a fare un cambiamento ci vediamo davanti ci vediamo davanti all'entrata caigio è il posto d'incontro caigio caigio no Iriguchi 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 è entrata Iriguchi ah lo puoi scrivere così o così? qua me l'ha messo senza I qua Iriguchi de Aimasho incontriamoci Aimasho bello questo Aimasho ah visto che la stazione è un casino fare e non possiamo cambiare fare cambio cioè fare cambio ste cavari ni cui goccia goccia ste cavari ni cui è difficile cambiare ci vediamo davanti all'entrata ci incontriamo davanti all'entrata è colpa di Marco che ha fatto diso no no lei ha messo in ordine non è colpa di Marco anzi grazie a lei ho trovato anche altra roba il problema è un altro il problema è che ho così tante cose che poi quando cerco quello che mi serve non lo trovo e poi ne compro un altro e poi quando non mi serve trovo quello che non stavo cercando capito? quello che mi serviva la volta prima qua c'è goccia capì capì che è qua poi no devo mettere qua vediamo se ci sta un'altra frase boroboro è boroboro essere rovinato boroboro è che cade a pezzi sono ginsua primip silent sono ginsua n zuil sono gins pin in azzumare e pengrimon uranini jeans nakotoga okurukana nannen aiteru no? quei jeans da quanti anni li metti? io metto le cose finché non esplodono aiteru no da quanti anni li metti quei jeans? yoku e non ci sto yoku son boroboro boroboro ninarumade aiteru no? allora quei jeans da quanti anni li stai mettendo? che bel coraggio che hai metterli finché cadono a pezzi in quel modo una roba del genere boroboro boroboro è cadere a pezzi una cosa vecchia distrutta tipo io adesso sono boroboro ok mono no jyotai mono mo mono no jyotai no ma ho sbagliato il kanji ma non me lo dici? figa infatti diciamo ma jyotai di me lo che sbaglio no? figa mi correggi dani? mi correggio? jyotai ok picca picca oh 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 sono ghita picca picca cattano hai comprato quella chitarra? certo so picca picca shimping desu no shimping no shimping shimping è essere nuovo cosa nuova mh 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 shimping i de schon te gusta? i de schon e poi mettiamo ciucco che ho usato malissimo usato che lo so però me lo scrivo di nuovo ok poi andiamo avanti goccia goccia assurdo mi sa che me lo scrivo no lo scrivo qua goccia 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 è un casino incasinato allora ecchi non ci sarò mai se mi dai una ttax fatta in fili di oro ripieni di diamante e il processore con un demone mangia uomini pelati ti avverto ok sarà fatto e chi va ah news a proposito news non mi dai news dimmi qualcosa di felice visto che non mi va bene niente anche internet mi hanno tolto adesso vado a 100 mega che poi non mi cambia un cazzo però è solo il fastidio che mi hai fatto un contratto e poi non mantieni la parola che hai fatto che mi dà un fastidio boia infatti adesso mi sa che gli chiudo il contratto così mi chiamano l'ufficio che mi aveva fatto il contratto su amazon la 5 costa 500 su amazon la 5 costa 500 ebbene comprala lì ma quale amazon la stazione è un casino è difficile cambiare visto che la stazione è incasinata è difficile fare cambio cioè cambio inteso sul treno ci vediamo davanti alla stazione il punto d'incontro è davanti alla stazione kaijo dovrebbe essere se non dico una stronzata di kaijo no i riguci kaijo questo qua è posto perché mi sono messo a scrivere qualche strettissimo kaijo e sono stronzo e non volevo usare un altro cioè non volevo usare la pagina kaijo no i riguci e de aima sho ci incontriamo davanti all'entrata principale c'è davanti all'entrata non c'è principale però non dici qual è l'entrata vabbè aima sho magari sono tipo la stazione di Tokyo c'è uscita nord, sud, est, ovest qual è l'entrata che vuoi devi specificare se non ci vedremo mai non ci incontreremo mai più allora farvi vedere che mi sono spostato del tutto sembro ancora semi dritto ok così andiamo avanti no non è vero andiamo avanti in par de ball devo scrivere quello dei jeans boro 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 ok lo so sono jeans sono jeans c'è scritto modello normale quella senza il disco cioè che modello è what name nannan nannan aiteru no aiteru no quel jeans da quanti anni lo stai mettendo Yoku Son Boroboro Narumade Non ci era scritto che modello era Eh ho capito ma non è che possano venderti una cosa senza scrivere il modello Scusa Anche poi li ho poi contestare Io volevo l'altro modello e tu me ne hai venduto un'altra Yoku Son Boroboro Ninarumade Aiterune Quel jeans da quanti anni te lo stai mettendo? Che coraggio che hai a mettertelo fino a quando si è rotto Cioè fino a quando cade a pezzi in quel modo Ok poi abbiamo Barabara È separato A pezzi separati Barabara Barabara è anche separato Barabara Pezzettato Barabara è Qua in questo caso come la mette? Allora Barabango Giunni Kicinto Ninarumade Allora Barabara è un numero all'improviso barabara 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 allora eravamo per bene in in coda per numero quando all'improvviso eravamo tutti sparpagliati vabbè tutti separati barabara però non è confermato cosa ah il prezzo no certo che non è confermato perché comunque loro se il prezzo si ma loro di solito ti mettono quello come prezzo massimo e poi vanno a scendere però non fanno il contrario non penso che possano fare il contrario cioè se hanno detto 500 non possono vendertela a 1000 per esempio devono vendertela a 500 però non scrivendo il modello e non è corretto kutsu ya de alla scarpe pittari essere preciso pittari preciso allora kutsu ya de al negozio di scarpe kutsu ya de e 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 pittari precisa perfetta va bene cioè preciso perfetto e mi sta bene questo lo sapevo già pittari poi abbiamo quante cazzo di parole sono b b b biscio biscio e essere bagnato mi sono bagnato tutto biscio anche perché se xbox costa 400 e hanno listese cose super giù biscio 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 dove l'hai inzuppato marco ti sei takusan bagnato ah si ho sfraccicato non lo so com'è che si dice essere bagnato tanto kyuni di colpo kyuni all'improvviso ame la pioggia ame ga futte ha piovuto all'improvviso eh biscio 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 e praticamente stiamo facendo due lezioni a dire versini è nata mi sono bagnato tutto e mi sono inzuppato con una zuppa biscio biscio mi sono bagnato di bagnato allora kokonocare wow questo è tappuri tappuri è tanto no tappuri è tanto no tappuri è tanto tappuri è tanto no tappuri è tanto tappuri tappuri è tanto tappuri è tanto kokonocare il carri di questo posto kokonocare carri è carerais non volevo lo scrivi così bloccare anche xbox si vocifera dai 400 a 450 e leppure più potente ma il prezzo di sui 500 ma era normale si sapeva ma anche la prima play costava così c'era play 4 come costa 450 che poi l'hanno abbassata dopo ma all'inizio normale che partono un po più alti però dopo un po la bassa di 50 euro ok o toko no ito ni ninchi cazzo significa ni ninchi allora questo carre è pieno di pieno di tanta carne è pieno zeppo di carne tanto o pieno zeppo di carne e quindi è molto famoso fra gli uomini invece alle donne non gli piace la carne gli piaccia il pesce tappori e tappori anche questo si però non devono farla pagare più dell' xbox ma loro hanno l'esclusive l'xbox l'xbox ti sta vendendo una console senza un cazzo per dirti gioca i giochi che puoi giocare sul pc o sulla play sulla mia macchina quello che non sta facendo xbox è darti i giochi quello è il problema principale barabara barabara è separato o sparpagliato allora bango jumban no è bango 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 june ma come non si dice jumban e perché c'è bango june cos'è è la stessa cosa è jumban anche ordine ah ok 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 ci sono ci sono grazie e poi xbox è un cestino della spazzatura e la 5 è quello che spruzza il profumo no io preferisco il cestino della spazzatura comunque se vai a vedere se vai a vedere mi sembra adesso non mi ricordo che computer non mi ricordo se msi mi sembra che msi ha fatto una con un computer stretto così come la play 4 e poi c'è un altro computer che è uguale all xbox che c'ha dentro la 2080 ti eccetera eccetera in un cubo ed è aperto sopra che la riesce da lì ma non mi ricordo chi è che l'aveva fatto se guardi sui video di linus tech dovresti vederle e sono praticamente sono dei computer fatti a modi console se tu vai a vedere quelli delle msi sono stretti così piatti ed è una console praticamente però naturalmente quello delle msi ti costa molto di più loro invece ci ha messo dentro hanno fatto più o meno la stessa forma e ci ha messo dentro le cose giusto per farti sorridere però ripeto per me è comoda la console perché prendo il gioco l'accendo e basta non devo stare lì a smanettare le ventole questo e quell'altro e poi io ripeto dopo due secondi che sto giocando la differenza grafica io non la noto più mi sembra di giocare alla console sia che gioco su pc o no tutti i nicolai non vedi la differenza no non la vedo devo dire balle non la vedo non la vedo it'su no mani all'improvviso it'su no mani ka all'improvviso mi sono trovato in mutande it'su no mani ka i nicolai i nicolai i nicolai i nicolai mi sono trovato in mutande Poi abbiamo Pittari, è giusto o preciso, non lo so, quindi non mi scrivo i significati. Kutsuya-san è il negozio di scarpe. Più che altro il PC è buono per gli open world dove puoi costruire H. Sì, ma gli open world hanno rotti maroni, hai capito? Cioè gli open world sono noiosi, la devono smettere di fare gli open world. Cioè per me, l'open world se comunque non vai nel punto X, non succede un cazzo. E devo stare in giro a camminare come un coglione per ore per arrivare al punto X, se no non parte la missione. A quel punto fammelo dritto, scusa. Mi fai perdere, tipo, come si chiama? Dynasty Warriors. Cioè a me è piaciuto quel gioco, però mi ha dato fastidio che me l'hanno fatto per world e se non andavo fino al castello non succedeva un cazzo, tre ore a cavalcare. E allora mi metti gli spostamenti veloci, a quel punto fallo dritto. E con tanti nemici, piuttosto di farmelo enorme, però vuoto. De Sakinoa. Sakinoa. Ciao Sara. Sakinoa. Ciotto Okikata. Allora, nel negozio di scarpe. Quello di prima era un po' grande, Corredatos. Invece questa sembra precisa, pittarì, sembra giusta. Ciotto Okikata. Ciotto Okikata. Poi vediamo con le future schede video che succederà. Esatto, escono anche le schede video nuove, escono le schede madre nuove e c'è la PCIe Express 4 che adesso dicono che non è performante come la 3, però il problema è che è una generazione appena iniziata, per quello anch'io sto aspettando a rifare il PC. Quando la generazione 4 si è impostata bene, che sanno come sfruttarla, eccetera, eccetera, vado, cioè cambio il PC, cioè lo, cioè cambio, le faccio uno nuovo. La tua scheda, la madre la cambi? Eh no, sai cos'è il problema? Che anche l'altra volta mi sono messo e cambia questo pezzo, cambia quello, cambia quell'altro, cambia quell'altro, alla fine del mio PC vecchio era rimasto praticamente l'hard disk e basta, a quel punto faccio un PC nuovo e questo qua lo tengo così com'è, cioè non è che è un PC brutto, è un PC bello. Infatti il mio vecchio l'ho dato a Mako e io tengo questo, poi farò, boh, tengo questo qua e ne faccio un altro e basta. Tanto alla fine vai a spendere, spendo 100 euro in meno, cioè però devo togliere tutti i pezzi di qua e lasciarli impilati su un tavolo, tanto vale che tengo due PC. Bisho bisho, inzuppato come una zuppa. Bisho bisho. Mako, ho caldo. Posso accendere l'aria? Sto morendo. Allora, CUNY. Quindi il PC dato a Mako avrà vita corta. Ah no, Mako sta usando ancora il mio PC, quello che facevo i primi video in full HD, eccetera, eccetera. Cioè, il PC di Mako va più veloce del mio quando si accende. Cioè dentro SSD e tutto, non scherza niente. Poi che lei lo usa solo per guardare internet, è un altro discorso però. Vai, sgasa di più! E ancora integro. Non è intero, è intero. Non so se mi senti perché c'è questo col motorino che mi sta sgasando sotto casa. Ma ce la fai ad accelerare e andartene a fancubo? No. Niente, continua. Forse ce l'ha fatta. Cioè, con tutte queste accelerazioni dovrebbe essere in fondo alla via, invece no, è sempre sotto la mia finestra. Il PC verita un premio, la cosa non distrutta da Mako. No, ma guarda che Mako non distrugge le cose. Più ni, amega, fute chite, bisho bisho ninatta. All'improvviso ha piovuto ed ero zuppo come una zuppa. Tappuri. Pieno zeppo. Con male la panza. Allora, coconocare questo carre. Ancora. Unicuga. Unicuga. Tappuri. E il coso per lavarsi il dente, che mi dici? Coso per lavarsi il dente? In che senso? Cos'è il coso per lavarsi il dente? No, questo non è lo spazzolino da dente. Uno fuori col motorino che non se ne sta andando via. Continua a stare qua a accelerare col motorino. Ma dici che è quello dell'erba? Sì. Allora chiudo la finestra e accendo l'aria condizionata perché... Sto facendo la salsa. Aspetta eh. Sembra un motorino il taglia erba modificato. Ma insiste, capito? Aspetta che metto il dio modificatore. Non dire che fa freddo perché sono dio modificatore. Questo che mi sgasa addosso tutto il giorno. Eh vabbè. Il bello della diretta. Questo carre è bello, pieno zeppo di carne. Quindi è molto famoso fra i maschi. Alle ragazze la carne non mi piace. Non si sa per quale motivo. Allora, Jotai. Che è quella parola di prima. Condizioni. E Teido. Teido cos'è? Teido. Cerchiamo. Insomma non mi viene in mente quindi lo sento. All in love. Teido. Allora. Viene da omitarmi dentro. Teido. 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 Cosa che sai? Eh sì. Odore di erba tagliata. Eh non lo so. No non stava bruciando. Stava tagliando l'erba. Non trovo il traduttore. Dov'è il traduttore? Allora. Grado. No. Cazzo significa? Macco. Teido. Teido. Cosa significa? Mi dice grado. Condizione grado. 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 Andiamo avanti. Non scherzo. Allora abbiamo sotto. Sono ha con naka ni ga rasu gaite rude. Sotto oite kudasai. Sotto è gentilmente. Sotto è gentilmente? Sotto. Sotto. Eh sotto. Delicatamente. Delicatamente. Abbiamo sotto e non sopra. Non sa però non c'è italiano. Eh la stessa cosa. Sotto. Sotto è gentilmente. 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 Allora. Sono haco. Quella scatola. Hako. Sono haco. Nakani. Dentro. Guras. Guras. È vetro. Ga aiteru. Dentro lì c'è il vetro. Eh. Aiteru. Visto che dentro quella scatola c'è il vetro. Appoggera. Delicatamente o gentilmente. Anche delicatamente. Eh. Gentilmente o delicatamente. Guarda. Eh. Blah. Blah. Sotto. 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 Oite. Dai scrivimi ti prego. Oite. Kudase. Adesso mi si scarica un po' le pile della tastiera. Sotto. Oite. Kudase. Appoggiala. Porta. O.K. E mettere. No? Mettila con. O appoggiare. Oddio mio. Ho un'amnesia. Amnesia portami via. O.K. Vediamo. Lo cerco. Se c'è i dubbi. Cercalo. O.K. O.K. Delicatamonte. Sotto. Oite. Kudase. Sotto. Oite. O.K. O.K. Poi abbiamo. Sassatto. Sassatto è. Sbrigati. Velocemente. Velocemente. Sassatto. 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 Velocemente. Veloce. Non riesco a scrivere. Sassatto. Sassatto. Perché non ti alzi? Non muovi il culo? Praticamente. Mata. Farai ancora tardi. Mata. Chikoku. Suryo. Questa è la mamma. Mata. Chikoku. Se non ti alzi. Velocemente. Farai ancora tardi. Sassatto. Si sta avvicinando quello col motorino. Oh. Non muovesco di meno. Che poi non è un motorino. Un lancia erba. Un spruzza erba. Come cazzo si chiama? Zatto. Zatto. Yonda da che do? Cos'è Zatto? Zatto. Ma. Zatto è sempre velocemente. No. Sempre velocemente. Wilma piglia la clava. Wilma piglia la clava. Wilma. Allora. Zatto. Yonda da che de ska. L'ho letto solo velocemente. Non mi sembra che ci siano problemi. Zatto. Zatto. Yonda. L'ho letto velocemente. Quindi non l'ha letto. Da che de. Da che de. Gli ho dato una scorza di limone. Da che de ska. Tokuni. Non mi sembra che ci siano cose. Che ci siano problemi. Mondai ga. Mondai wa nai. Penso che non ci siano problemi. Gli ho dato una scorza di limone velocemente e non mi sembra che ci siano problemi particolari. Zatto. Poi abbiamo. Jikuri. Jikuri è lentamente. Mataji kangaro no de jikuri kangatete. Pensaci bene o pensaci con cura o pensaci lentamente. Mada jikangarukara. Visto che c'è ancora tempo vai a fare incubo. Jikuri. Jikuri. Kangai. Non urlare ma che vengo su ti prenda testate. Kangaete kudasai. E' perché schiacciato cancella no? Torna indietro. Aspetta che arrivo eh. Macca cancellato qualcosa. Allora. Visto che c'è ancora tempo pensaci con cura o pensaci lentamente. Prima di darmi la risposta e che poi ti taglio la testa a metà. President Evil 5. Grazie. 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 Oh, dopo nienta, no? Lei è chiuso male, Marco, si salva prima di chiusa. Adesso è a posto e basta. Marco, l'hai chiuso? No, non è chiuso. Marco. Quando uscire devi salvare. Questa è l'ultima versione che ha salvato il PC in automatico. Ma volete add? Sì, ma comunque è chiuso senza salvare. Devi salvare sempre prima di chiudere il... Vabbè. Sotto. Sotto. Questa penna l'ho usata al limite del limite, però continuerò a usarla finché funzioni. Sotto. Gentilmente o delicatamente? No, 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 è lunga la lezione. Gentilmente, vedazzo. Gentilmente o delicatamente? Mancano ancora un sacco di... Mancano tre parole e poi ci sono gli esercizi. Sei arrivato giusto. Allora, sotto... Sono... Oggi ho l'esame. L'esame di cosa? Dici. Sono a... Non ma mani... Terza media. Ah, top. Io quando avevo fatto l'esame di terza media sono stato il primo a essere chiamato. Cioè ero il primo proprio di tutta la scuola a essere chiamato, quindi non avevo visto nessuno che ha fatto l'esame, io ero proprio il primo. E c'era quella di musica, mi ricordo benissimo questa scena qua, c'era quella di musica che mi aveva chiesto... Adesso la preside mi inchiappetta. Mi aveva chiesto tipo una canzone, che la canzone si chiamava tipo Di Varsavia, no? La canzone. E lei mi diceva Di... E io Varsavia. E lei? Di Varsavia. Di Varsavia. E gli ho detto, sui signora, mi sta prendendo per il culo. Lei invece intendeva Di chi è l'autore. Io invece Di Varsavia, nel titolo si chiamava Di Varsavia, e continuavo a dire, Di Varsavia, Di Varsavia. Cioè sei sorda? Non senti che ti sto dicendo Di Varsavia? Invece la intendeva perché ero emozionato. Se sono le mie belle avventure alle medie. Nakani. Però il primo non sapevo come si facciano gli esami. Gurassu. Nakani Grasga. Beh, comunque in bocca al lupo. Ricordati che più tempo studi... E va bene, ho appena fatto una prova a 17 minuti. Ricordati che più tempo studi e meglio è. Allora, sono Ako Nakani Grasga, Eteruno De. Visto che dentro quella scatola c'è dentro del vetro, sotto, che è sotto, sotto, ma non è sotto, è sotto. Ho detto, cosa sai che si incappoggia? Mettila gentilmente e posiziona. Decisa, gentilmente. Io sono il terzo. Beh, almeno vedi due persone prima. Altro trucco, non fare mai entra... Incappi dalla scuola. Non fare entrare nessuno a guardarti l'esame. Perché se i professori vogliono aiutarti, se c'erano i testimoni dietro, non ti possono aiutare. Io non so come funziona l'esame da voi. Io poi infatti tutti gli esami alle superiori mai avuto nessuno dietro di me. Infatti quando il prof mi chiedeva qualcosa che non la sapevo, gli dicevo, prof, mi ha fatto male, questa non la so. E lui mi diceva, vabbè, parlami di quello che vuoi. L'unica cosa che avevo studiato, gli dicevo... Invece quelli che si portavano le amiche dietro, se tu non rispondi davanti alle tue amiche e fai la scena muta, questo ti deve bocciare e basta. Io invece ero il furbo. Ma a causa del Corona S lo faccio online. Ah, è online, quindi se ne è tutti lì in live. Eh, quello è un pro... Eh, lo fanno online, come fate voi. Eh, con tutti che guardano e la prof di fare domande e lui risponde. Eh, quello è un bello tost. Io no, è sempre da solo. Non volevo mai gente dietro che mi guardava. Io mi promuovevano per la simpatia. Sassatto è velocemente. Sassatto! Sassatto. Tanto ho già i fogliettini a sinistra del PC. Eh, esatto. Non mi dissocio. Spera che la tua prof non stia guardando questa live. Sassatto o chitarà. Perché non ti alzi velocemente? Anche oggi farai ritardo. O chitarà. Non so dicendo te, sto traducendo la frase. Mata Chikoku. Farai ancora tardi. Chikoku è ritardo. Chikoku. 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 Chikoku su Ryo? Farai ancora tardi. Ta 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 ta. Poi. Eh, Zatto. Zatto, gli ho dato una sbirciata. Zatto. Zatto è sempre velocemente sbirciatina. Sasato, Zato sono uguali Zato, Yonda Zato, Yonda da che dè? gli ho dato solo una sbirgiatina veloce e mi sembra che non ci siano problemi Yonda e leggere ho letto ieri mi hanno detto che avevo imparato tutto a memoria e gli ho detto ma che cazzo stai zitta bambana ma no! non si dice così alla prof si dice così pensa che io imparavo tutto a memoria pensa che dicevo cioè imparavo tutto a memoria anch'io e poi piano piano inizia avevo il problema che andavo a letto e mi dimenticavo tutto cioè la mattina mi svegliavo e non mi ricordavo più quello che avevo studiato e quindi o non andavo a letto o mi alzavo la mattina presto e studiavo in modo tale che non mi dimenticavo quello che dovevo dire però poi lo impari cioè io ho imparato a non memorizzare tutto se me lo ricordo bene se no ciao se no vado di simpatia no ma non è vero dipende allora gli ho dato solo una sbricciata veloce e mi sembra che non ci siano problemi speciali se mi dicono che non ragiono gli dico forse siete voi troppo lenti ma no quello non puoi dirlo allora ricordati che devi comunque sempre dare del rispetto al professore anche perché se gli dai del cretino lui se vuole aiutarti non ti aiuterà io invece usavo la tecnica segreta del mi fai una domanda io ti ripongo la domanda e facevo parlare il prof e io ascoltavo quello che mi diceva lui nel senso non mi viene in mente tipo non so mi chiedeva parlami di questa parte di storia io gli dicevo ma è quella parte di storia dove succede quella cosa e lei sì perché qua qua andava avanti a parlare lei poi il tempo finiva aveva parlato solo lei mi metteva un bel voto aveva parlato lei al posto lì è sempre una professore poi mai mettersi contro un professore esatto se ti prende sott'occhio male non ti passa più come faceva la mia prof di diritto economia che continuava a mettermi due anche se non mi interrogava ma da jikangaru poi dopo siamo diventati amici in non in vacanza come si in settimana bianca siamo diventati amici ho l'esame JI dico che non è stata la professore di matematica a fare preferenze tra gli alunni allora jikuri aspetta e poi al f4 al f4 ma no ma da jikangaru karajikuri invece a me il professore di informatica mi aveva detto mi raccomando non portare la mia materia perché andavo male perché il mio prof di informatica era molto intelligente se tu facevi la soluzione del problema lo facevi in modo diverso dal suo perché lui non era capace a programmare allora era sbagliato lo potevi fare cioè per lui l'informatica funzionava solo a modo suo cioè non c'era un'altra via allora io apposta ho portato informatica come prima materia che avevo due e ho preso otto che il prof era diverso non era il mio prof era un prof esterno quello che mi aveva fatto l'esame per farti capire che il mio prof era un cretino però non è che gli ho detto che è un cretino gli ho fatto capire ma da jikangaru cioè che sicuramente questo qua ha studiato solo quei passaggi lì sapeva fare solo quelle cose quindi se tu gli fai cose diverse lui non le capisce e quindi ti metteva voto negativo perché pensava cioè per lui era sbagliato quando tu hai fatto giusto lo stesso allora anche in matematica ho un CTRLW e gli dico che mi stanno hackerando ma va il come si chiama il in matematica invece c'era un un all'esame avevo fatto un praticamente un sistema dove c'era non mi ricordo cos'era era un coso lunghissimo che per fare i calcoli dovevi metterci almeno mezz'ora io invece avevo fatto un sistema che mettendo tutte le condizioni in verticale in orizzontale mi usciva il risultato subito e l'ho fatto in un modo completamente diverso da come me l'aveva spiegato il professore però quando ho dato l'esame mi ha cioè mi ha detto cacchio bravo come hai fatto a farlo così velocemente gli ho detto guarda ho messo le cose così così e dal risultato giusto lui ci è rimasto male perché non me l'ha spiegato però io lo sapevo fare allora andiamo anzi basta parlare di scuola che mi escono le lacrime e ricordati che la scuola è la cosa più bella che esista anche se tu non la pensi così però quando diventerai grande e andrai a lavorare mi darai ragione e ricordati che stai studiando per diventare uno schiavo sei contento sei contento no scherzo e magari diventerai ricco e famoso e dirai quello lì mi diceva che erano schiavi invece sono ricco e famoso e felice allora andiamo avanti gussuri gussuri non lo so Marco suggerisce profondamente l'ha detto Marco io mi fido di Marco gussuri io all'esame del medie avevo un voto bassissimo ad arte infatti imparai una cosa di arte a memoria per esame toccame e la professore di arte se ne era andata va bene ha rinunciato io invece la prof di inglese mi fa portami quello che vuoi basta che mi parli in inglese perché io non mi presentavo mai le sue lezioni gli ho portato la storia dei Beatles gli ho cantato anche Lady B abbiamo cantato insieme con tutta la classe e mi ha promosso mi ha interrogato una volta in tutto l'anno e mi ha fatto passare perché gli ho portato la storia dei Beatles e abbiamo cantato insieme perché io sapevo che gli piacevano e allora e allora ne ho approfittato e non ho studiato niente di quello che aveva spiegato tutto l'anno allora gussuri profondamente allora kyoa oggi kyoa magari con scriviamo in giapponese kyoa oggi tsukarete mitai tsukareta mitai tsukareta mitai tsukareta mitai oggi mi sembri stanca tsukareta mitai de kodo motachi wa ah scusate state lontano dai televisori aiuto mi è tratto nel naso il naso allora kyoa tsukareta mitai oggi mi sembri stanca e i bambini dormono profondamente kodo motachi wa gussuri kodo motachi kodo motachi no non scrivere cose strane mi raccomando che sono anche su youtube se no mi tocca disintegrarti dal pianeta kodo motachi wa fai il bravo noi siamo tuoi amici tu devi essere amico nostro ne mutte ne mutte ilu allora i bambini dormono profondamente oggi mi sembri stanca i bambini dormono profondamente interessante poi le ultime due parole ghiri ghiri è a pelo ma il virus è una parola che fa in conflitto con le impostazioni del canale no con youtube con youtube sicuramente quindi evita ghiri ghiri perché sono anche in live di là ghiri ghiri non lo so anche se eviti di fare questi test mi fai un favore se no ti picchio ghiri ghiri dove cacchio l'ho lasciata la frase allora to chude da me da tomotta che do ghiri ghiri mania a metà a metà strada pensavo di non farcela invece ce l'ho fatta a pelo ghiri ghiri è all'ultimo momento ghiri ghiri è sì all'ultimo momento a pelo picchiare i minorelli come è che si dice guarda che ti sto per bannare dazzo ti avviso l'ultimo avviso poi ti banno ghiri ghiri a pelo fai il bravo su allora va bene bravo buongiorno weyan sei su youtube benvenuto ghiri ghiri appelo all'ultimo momento inteso appelo in quel senso all'ultimo momento al limite al limite ghiri ghiri allora to chude da me da tomotta to chude da me da to omotta come mai su youtube su tutte e due sono perché visto che tanto non posso mettere le canzoni su twitch e c'è il rischio che twitch mi chiuda il canale perché c'erano le canzoni faccio le live anche di qua così se perdo le lezioni per quanto lo sospendo no non sospenderlo ha detto va bene to chude da me da tomotta basta che si comporta bene più che altro perché sono anche su youtube quindi non posso sgarrare perché lì al minimo sbaglio che faccio mi chiudono il canale come al solito a me è come se fossi il male nel pianeta gli altri possono fare quello che vogliono però io sono il male ghiri ghiri mania ma mi atta allora to chude da me da tomotta ghiri ghiri de mani atta a metà pensavo di non farcela invece sono arrivato a pelo o al limite allora poi abbiamo l'ultima parola che è soccuri soccuri assomiglia molto ma coassomiglia molto al gatto soccuri essere simili soccuri è assomigliarsi com'è che si dice in italiano assomigliarsi o essere simili incominciano pure a vomitare su twitch sì e soccuri assomigliarsi assomigliarsi perché perché quelli dei copyright dicono visto che la gente online mette musica eccetera eccetera e noi non guadagniamo tanto perché i negozi sono chiusi e andiamo a dare fastidio a quelli che sono su internet a parte che gli americani mettono ancora la musica solo qua in Italia noi ci siamo bloccati gli americani se guardi le live degli americani hanno la musica e tutto come se non la fosse vabbè hanno oiaqo a ontoni soccuri quei ma deniter quei oiaqo sono quei quei figli quei quei fratelli controlliamo un attimo oiaqo allora hanno oiaqo oa onto veramente ontoni soccuri quel papà sarebbe quel genitore figlio sono veramente si assomigliano molto coema de fino alla voce coema de niter si assomiglia anche la voce niter niter assomiglia anche la voce toccuri assomigliarsi e essere uguali per Mako tutte le persone alte senza capelli sono il mio vicino di casa qualsiasi persona passa è lui invece no allora niente facciamo gli esercizi che oggi la lezione si è già mie sono passate già due ore non ho fatto neanche gli esercizi no niente devo scrivere prima perfetto allora gussuri l'abbiamo fatto ah no che a questo siamo arrivati qua allora gussuri va ho scritto due pagine di solito scrivo due pagine con gli esercizi invece va bene gussuri Mako canta tuturururit kyoa kyoa tsukareta mitai oggi mi sembri stanca e i bambini dormono profondamente cosa significa non lo so però lo dice lui quindi va bene scareta mitai taide salutami Mako Ale ti sente ti saluta Yan Mako allora A2A mi dice se voglio portare i miei amici che mi fanno lo sconto cioè non vi basta i soldi che mi rubate volete rubare i soldi anche i miei amici va bene in questo modo ci va gussuri gussuri nemutte 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 sto pensando di chiudere il contratto di fastweb perché dopo due anni hanno deciso di non mettermi l'ultrafiba gratis ma me l'hanno tolto e mi hanno fatto pagare anche e adesso mi faccio contattare da quelli che mi avevano contattato quando sono andato via che mi avevano promesso che avrei pagato 19 euro adesso sto già pagando 26 euro e vogliono che ne pago 31 e se lo scordano se no gli chiudo il contratto e basta tanto se chiudi il contratto ti chiamano se non chiudi il contratto va bene così allora ti chiudo il contratto così mi chiami e ti mando a cagher ghiri ghiri ora stanno esagerando si che poi mi fa no ma noi te la possiamo mettere l'opzione ultrafibra per sempre però paghi 29 e 95 cioè un euro in meno mi prendi in giro cioè vado sempre a pagare di più adesso vado a studiare ciao in bocca al lupo e buono studio ghiri ghiri al limite al pelo questo lo so tociu che tociu è nel mezzo gammin di nostra via tociu ho acceso l'aria condizionata è un caldo lo stesso vabbè tociu dè da me da faccio in fretta perché sono in ritardo ma tra poco ho perso le speranze con fast infatti ho cambiato tanto non mi davano il gigabit anche se ero coperto ero stufo di litigare onestamente apri milari la finestra ma spegni figa acceso da due secondi sono contento che vai via perché oggi pomeriggio accendo l'aria perché non se ne può ho l'aria condizionata non la posso accendere il giga non la posso usare oh ma avete rotto i marones infatti sto pensando magari vado con Tiscali che come società non mi piace Marco è presa bene a si è presa bene perché deve andare a prendere la carta di credito ricordi che deve andare a prendere la carta di credito così può iniziare a spendere oiaco oiaco tu me lo scrivo che non sapevo onto ontoni soccuri soccuri coemade persino la voce si assomiglia coemade ah vero quindi non ti ruberà più i sordi quindi non ti ruberà più i sordi eh forse quello non ho ancora detto a noi a coa ontoni soccuri coemade nitero quei padre e figlio mamma e figlio sono veramente simili cioè si assomigliano veramente anche la coe cioè anche la voce sui anche la coe anche la voce è uguale cioè si assomiglia nitero e soccuri praticamente la stessa cosa queste due cose qua che facciamo gli esercizi flash no lo sto già facendo cioè da tre settimane non una settimana da domani andrò in viaggio a okinawa sono molto emozionato sono veramente su goku tanoshimi non vedo l'ora di divertirmi vabbè se lo vedi tu 35 eh cioè si ciao esercizio 1 scrivo subito perché siamo in ritardo sulla tabella di marcia ashta mi dirai perché è da fare no però lo stesso così ashta kara okinawa okinawa è il nome di un posto ryoko domani andrò a okinawa in viaggio a okinawa waku waku suru waku waku suru zo waku waku suru waku waku suru onto ri onto onto no questo onto su goku tanoshimi sono veramente emozionato domani andrò in viaggio da domani andrò in viaggio a okinawa sono molto emozionato veramente non vedo l'ora di divertirmi l'acqua col detergente esatto l'acqua che ti lava dentro e fuori musume no shushoku ga yato kimatte no questo sono passato all'esercizio qua vabbè scusate mi semo a ma da ai teru no ka il negozio è ancora aperto a chichi ma de da kara giri giri mania un janaino fino alle 8 quindi arrivi al limite e io la gente che mi entra la sera un minuto prima della chiusura gli sparerei in faccia un bazooka cioè sono lì ho 9 ore tu mi devi entrare quando sto chiudendo ce l'avrai una famiglia anche tu no minseo ma da aite aiteru kana il negozio è ancora aperto a chichi ma de da kara fino alle 8 a chichi ma de da kara e ma shadow quando sei andato via ti hanno richiamato quelli di fastway per dirti non andare via resta con noi a chichi ma de da kara perché ero tentato di fare come si chiama tiscali anche se so che come società non è delle migliori però ha 300 in upload ma ne ha un janai qua abbiamo waku waku e qua abbiamo giri giri mi seo ma da a chichi ma de da kara giri giri ma ne ha un janai no il negozio è ancora aperto fino alle 8 quindi arriviamo a pelo pensa che andrò a spendere di più hai capito spendo di più di quello cioè praticamente non riesco ad andare via da fastway perché pago meno comunque rispetto agli altri hai capito però se vado dagli altri o vado dalla fastway pago uguale però non voglio dargli alla vinta fastway che gli do i soldi che vogliono rubarmi hai capito cioè mi hai fatto un contratto devi rispettare quel contratto io se no ti chiedo il contratto e te ne vai a cagher per loro meno di 29 non possono farti al telefono 29 è la cifra più bassa solo che io pago 25 perché devo pagare 29 mi fai lo sconto di un euro mi prendi per il culo che poi è 29,95 quindi comunque dopo chiamo ancora fastway li chiamo tutti i giorni intanto io fretta non ne ho 3 sonnani poi tanto a me 50 giga o 100 giga non mi cambia niente cioè a me delle giga non me ne frega niente a me interessa l'upload sì il download non mi frega niente ancora ho scritto la frase sotto 3 kusuri non de kusuri nereba suguni yokuni narimasu yo waka rimasta kusuri è medicina kusuri o nonde bevi la medicina nonde kusuri kusuri nereba se prendi la medicina e dormi profondamente su gu subito su gu su gu ni yokuni narimasu e starei meglio subito non è vero yoku narimasu yo waka rimasta ho capito non è vero non è vero se bevi la medicina e dormi profondamente guarirai e starei meglio subito ho capito non è vero non ho capito niente 4 kareto kenka stakedo ho litigato con lui 4 kareto kenka kenka a litigare stakedo ho litigato con lui c'è il kanji di kenka però vabbè non lo scrivo perchè non lo so kenka stakedo itai koto itai koto itai koto itara su kirista però gli ho detto quello che volevo dirgli e mi sono come si dice mi sono sollevato mi sono sono tolto un peso toglierci un peso bravo togli un peso dai marones allora toshimo toshimo shokugyo mo barabara da kedo cos'è sta shokugyo allora shokugyo è lavoro barabara da kedo uchi no chimo a minna nakagai indes si ha l'età che il lavoro è diverso ma il nostro team siamo tutti amici che cazzo se ne frega non ho capito il significato a parte che devo scrivere che non c'è spazio sto andando troppo giù scrivo queste frasi prima uno hasta devo cambiare foglio la lezione più lunga du mundu allora hasta kara che sto sudando come una capras uno hasta va hasta kara scusate da domani okinawa okinawa come è difficile da scrivere okinawa ryoko every night okinawa ryoko waku 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 suru onto onto sugoku sanoshimi non vedo l'ora da domani farò un viaggio a okinawa sono molto emozionato non vedo l'ora di divertirmi a due a due mise mise mese mada aiteru no kana si per gli stronzi siamo ancora aperti mada aiteru no kana il negozio il negozio sarà ancora aperto sui domandos acg no recupera si ci ho fatto acg madè fino alle 8 dacara giri 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 arrivi proprio al pelo per dare fastidio a chi lavora dentro lì ma niao ma niao non si scrive infatti c'è il cangio aspetta ma ma niao njarai nio nianai nianai questo qua è quello di tempo dov'è? ok kusuri 3 kusuri o nonde ho bevuto la medicina kusuri gusuri scusate gusuri nereba se prendi la medicina e dormi profondamente starai meglio subito intanto ti rubo i soldi kusuri nereba sugu yoku ninarimasu io sarai meglio subito ho capito poca rimasta 4 kare kare to kare to kenka kenka stakedo ho litigato con lui ma i tai koto le cose che volevo dire i tai koto yutara to yutara 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 5 5 5 lo scrivo ancora 5 eeeh toshi 5 toshi e sarà in questo caso l'età toshi to eeeh giugyo giugyo così no ho sbagliato to eeeh kokugyo scusate shou io queste parole qua non mi rimangono mai in testa shou chokugyo che è quello di zanghyo ma al contrario quindi il lavoro mo bara bara è tutti separati bara bara dakedo eeeh uchi no team il nostro team uchi no cimu uchi no cimu ua minna tutti il nostro team siamo tutti amicici naka ga i naka ga i essere amici naka ga indes barabara barabara qua abbiamo su curi iri non so curi me lo scrivo perché è già la seconda cioè la millesima volta che lo scrivo questo non mi ricordo mai come si pronuncia shoku 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 barabara barabara dakedo uchi no cimu uchi no cimu qua minna cimu cimu naka gai naka gai si adesso il lavoro e l'età tutti diversi ma il nostro team siamo molto amici su facebook daranno zero down assassin creed ma potrebbe essere fake ma siamo a metà giugno è presto no zero down lo possono dare visto che lo mettono su pc e si devono solo vergognare anche lì esclusive poi le dai su pc che esclusiva è viva dei polli anche perché esce il 2 su ps5 sì quello sì ok ma quello sbagliato comunque sai che anche il 2 se è uscito l'1 su pc uscirà anche il 2 prima o poi a me dà fastidio a quel punto scusa il ragionamento che fa molta gente che dice tanto su pc si vede meglio aspetto e ci gioco su pc che almeno lo vedo a mille frame tutte ste stronzate qua hanno ragione quando fanno quel ragionamento lì hanno ragione tanto anch'io esce il gioco non è che ci gioco oggi cioè appena esce ci voglio giocare non mi interessa aspetto ci gioco che lo vedo anche meglio anzi noi facciamo da cavie che gli correggiamo i bug e robe varie quindi cioè li correggiamo ci becchiamo i tutti i bug e le robe varie 1 allora minna minna tutti nakoto yukara iken ga zenzem matomaranai minna barabara nakoto yukara iken ok diciamo tutti cose diverse quindi non riusciamo a metterci d'accordo minna barabara yukara iken yukara decisione ga zenzem non riusciamo a prendere la decisione matomaranai matomaranai tutti tutti dicono cose diverse quindi non riusciamo a arrivare a una decisione mako barabara è un aggettivo na e aggettivo na barabara na si minna barabara nakoto yukara na è un aggettivo na no vabbè due a meno che l'ho sbogliato musume shokugyo gaiyato kimate otto shimashita so desu yukara finalmente mia figlia ha trovato lavoro ho tirato un respiro di sollievo barabara kouyu diventa no barabara ni si ma non è capito però è un aggettivo na diventa però non me l'avevo aveva spiegato che era un aggettivo no piatto kimate finalmente mia figlia ha trovato lavoro otto shita ho tirato un respiro di sollievo otto shimashita otto shimashita so desu so desu ah è davvero fa la prostituta molto bene yokatane 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 allora era ora che trovavo un bel posto di lavoro andiamo avanti poi poi e tre sonna ni shinae de kochimade ki bunga waru konaru sonna ni ira ira ok qua è non arrabbiarti così tanto che se no mi arrabbio pure io ci arrabbiamo tutti insieme appassionettamente sonne de inoka ah è uscito quello di lightoman lì nazuman quello che ho caricato ieri il grande dlc che mi hanno fatto pagare che dura 5 minuti inoda sonna ni ira ira shinae de non essere così arrabbiato no ira ira shinae de kochimade anche io mi sto mi viene da arrabbiare kochimade no anche a me mi viene da se mi viene kibun 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 ga waru konaru ga waru konaru ga waru konaru anche io mi sto mi non mi viene da parlare l'italiano anche a me mi stanno girando i marones sarebbe anche a me premo una sensazione di fastidio di nervoso allora shokuji ga sundara quando hai finito di mangiare sasato shokyo katazukete metti doki doki ira ira doki doki non è quindi è sasato quando hai finito di mangiare metti e metti subito a posto mamma mia fammi del masticare che fretta c'hai shokuji shokuji dai shokuji ga sundara quando hai finito di mangiare però ti dice quando hai finito di mangiare sundara yuki no gachaman sasato sasato io ho scritto male sasato aspetta un secondo ho invertito no ma scusa no sasato mi sa che l'ho sbagliato a scrivere eh si o no no si ho scritto male scusate my bad è sasato 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 non è sasato l'ho pronunciato male io scusate my bad l'ho scritto male quindi l'ho sbagliato anche nel mio quaderno infatti qua è scritto diverso sasato gachaman correggiamolo lol lol no qua l'ho scritto no l'ho scritto sbagliato anche qua kagakuninpo inotorida tobe 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 gachaman yuki 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 gachaman gachaman chikyuwa ito tsum chikyuwa ito tsu oh gachaman gachaman ma con sciocchi sono le pentole no i sciocchi sciocchi o cata zucchette metti in ordine i piatti sarebbe in ordine le stoviglie allora questo lo scriviamo i piatti in generale le stoviglie sarebbe in italiano però fa schifo uno i keng i keng i keng ga zen zen ma to maranai non riusciamo arrivare a una conclusione perché tutti parlano a una decisione perché tutti dicono cose diverse i keng ga i keng ga i keng ga ma to maranai poi due musume mia figlia no shoku shokugyo shokugyo ga yato finalmente mia figlia ha trovato lavoro yato kimatta è stato finalmente vabbè deciso questo è decidere kimatta finalmente ha trovato lavoro otto kimatte otto shita bevo così continuo a ruttare shimasta so deska veramente so deska so deska yokattane sono contento per te yokattane che poi non è vero non è felice per niente però ho sbagliato anche a scrivere yokatta mamma mia come sono messo yokatta yokattane tre sonnani ira ira shinaede sonnani ira ira non ti incazzare così mi metti di brutto umore anche a me kochi mo kochi mo ecco adesso ho trovato la parola giusta kochi mo kibun ga waru kochi ma de non mo kochi ma de ki bun ki bun mi metti di brutto umore anche a me mi metti di brutto umore anche a me tokugi ga sundara sasato che poi è sasato sasato come cazzo sembra un annuncio ma sasato a me viene da dire sasato e invece sasato 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 oh la canzone dell'uomo tigre peccato che non potete sentirla la mia preferita io sento sasato non sasato boh vabbè sasato sciocchi cattà eh ma io sento sasato non sasato si maco non ci siamo di nuovo io sento un'altra cosa infatti prima ho scritto quello che sentivo allora quando avete finito di mangiare mettete a posto i piatti velocemente sasato sasato e dice sasato hai capito è sasato non sasato io dico sasato ma sento anche sasato invece qua dice sasato boh non lo scopriremo mai andiamo avanti uno madame sasato dice sasato di temaco ma non si pede ma è diverso come è scritto eh sì c'è lo zu tra i due sa è sa zu sa to è diverso io mi ricordo e sento sempre sasato non sasato vabbè comunque non ne usciremo mai con tenki sasato a me a madame piove ancora con con penki con questo tempo bacari con questo tempo eh su zuite su zuite continuare eh su zuite su zuite eh eh ciccuri ciccuri unzari non vi ripittari succhiri ciccuri e unzari unzari surne no unzari surne ha proprio stufato sto tempo piove continua a piovere unzari surne ma che padre ma al macco non si dicono le parolacce sei una ragazza è parolaccia eh è tu l'hai detta tu io non l'ho detta Tanaka san nozuke ancora la la Tanaka san nozuke non l'abbiamo fatto l'altro giorno la scrivania di Tanaka che era sempre in ordine adesso vediamo com'è i tsumo eee succhiri pittari ciccuri nonbiri hm ah con shumatsu kazokuto nonbiri sugo shu tai fudoya san okyaku san go kiboni eee pittari succhiri mako qua non ho capito eee c'è una una si dice una un jikuri di una di un tavolo messo in ordine jikuri Tanaka san nozuke i tsumo jikuri sterune no kashukuna no eh però succhiri muntoni muntoni lentamente con pazienza eh ma succhiri non è tirare di sollievo eh pulito eh tirare un respiro di sollievo ma ho capito ma il tavolo fa tirare i respiri di sollievo in giappone no in quel senso ordinato vabbè questa l'avrei sbagliata perché per me è un altro significato vabbè il zumo il zumo succhiri ho lavato i denti sì ma quello sì ma quello per me ha senso ho lavato i denti quindi sto meglio ma cioè che il tavolo è succhiri mi suona di merda è meglio che da eh ma ho capito ma eh sì me lo stai dicendo tu però per me aveva un altro significato i tsuyo namo no per me il significato era tiro un respiro di sollievo tiro un respiro di sollievo guardando il tavolo si on mono da che o i te c'è solo roba che serve praticamente o i te e ripeto c'è tutto in ordine perché non sta lavorando cara perché c'è solo ci sono solo le cose che servono quindi il tavolo e la sedia e quindi è sempre in ordine allora poi abbiamo tre con kondo no shumatsu questo è un fine settimana kasokuto nombiri nombiri sugostai nombiri o jikkuri metto nombiri e vediamo tre sto morrendo dal caldo oggi adesso vado a farmi la doccia kondo no shumatsu il prossimo fine settimana prima o poi il fine settimana nakazoku che non arriverà mai kazoku to nombiri nombiri e sugostai sugostai vorrei stare con la mia famiglia in relax o lentamente lo scopriremo dopo o è jikkuri o è nombiri io ho messo nombiri quattro fudo san iade questa è l'agenzia immobiliare fudo san iade l'agenzia immobiliare che era tanto okiaxama okiaxama il cliente okiaxama caro cliente okiaxama no go kibo come voleva il cliente kibo ni pittari pittari perfetta pittari no eia no o eia va bene non ci stava mai no o eia ha rimasto è una stanza perfetta per lei come voleva lei allora qua abbiamo messo su kibo questo qua l'avrei sbagliato poi che altro perché su kibo per me è essere ospiro di sollievo nombiri e relax con la famiglia voglio stare in relax con la famiglia o lentamente con la famiglia quindi jikkuri uno dei due io metterei nombiri poi pittari è perfetto preciso ho proprio la stanza che va bene a lei gli sta proprio a pennello uno matame ancora pioggia chiandi matame con la tenchi con la tenchi sempre questo questo tipo di tempo baccari baccari è sempre suzui te continua sempre questo tempo mi ha un po' stufato mi ha proprio stufato suzui te no te unzari 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 surne piandi due tanaka san tanaka san no no tanaka san no suzui te voglio fare in fretta sbaglio a scrivere lol いつmo sempre arashini kansareta babiliu noto nisunderu yunio yoku shonen babiliu nisei shizionamono pauma morutame mitsuno mitsino benimei reta ai gioro puro su sora otto be pose idon wa umio yuke rodem en shin chi ok kakeru allora sizionamono dake o iteiru c'è solo ha solo le cose che servono sul tavolo praticamente tanaka kakeru ma ta babiliu no to nisunderu sizionamono shonen babiliu nisei ok tanaka san wa tsukai tsumosu kiri siteru ne shizionamono dake oite ilu karane kondo non non shumatsu no oh hmm mmm c'è nsd kondo no shumatsu a caso ocuto con la famiglia andasione ma bironi se in caso ocuto nombiri nombiri sugo stai vorrei passare con la mia famiglia il prossimo fine settimana in allegria cioè in allegria non c'è scritto in relax sugo stai tomo imasu penso tomo imasu allora kondo no shumatsu a caso ocuto nombiri sugo stai tomo imasu il prossimo fine settimana vorrei passare il vorrei passarlo in relax con la mia famiglia 4 fudo san yade all'agenzia immobiliare okiaxaman caro cliente posso rubarle i soldi okiaxamano gokibo aspetta un secondo perché metti ste maschere orribili e non è brutta però che te ne fai però è quelle sono quelle sono quelle sono quelle che si chiama ma perché ce l'hai la maschera perché ti devi mettere questo non perché mi era dato ho capito ma ce l'hai no quello di ieri a qua hanno lavato mi è arrivata con una maschera che sembra paperino mi è arrivata con una stanza proprio perfetta per lei come come lo voleva lei però costa il quadro ok vediamo se ho fatto i giusti esercizi e ci si saluta la lezione è durata troppo per i miei gusti paparaparara allora questo qua è 1a tan 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 è questo qua 1a barabara 2c 8 giusto 3b ira ira ah non l'ho sottolineato ira ira giusto paparaparapa poi abbiamo sassato ok la e ed è giusto ok poi 1d 1d è un zare giusto 2c do ah no è sbagliato a leggere 2b succhiri ma come aveva ragione questo qua me lo sento il mio perché io l'avrei sbagliato ehm poi ehm 2b 3e non biri ok l'ho fatto giusto e 4c e pittari cioè avrei sbagliato o no perché non sapevo che cosa mettere per non c'era nessuno dei 5 simboli che era però lo sottolineo ok Dani grazie per la compagnia come sempre grazie a chi è passato e chi passerà e chi ci sarà ben saluti e ci vediamo buon presto buon presto ma con che cosa però abbiamo fatto ehm grammatica mi sa sì grammatica grammatica 104 siamo già grammatica mi sembra ieri che aveva fatto grammatica grammatica 104 bene a domani bye bye ciao